La riqualificazione dell'ex Fiera di Trieste contenta tutta la classe politica ma con dei distingui fra maggioranza e opposizione. Se da un lato infatti il centro-destra applaude al progetto e a quello che sorgerà nell'area fra Piazzale De Gasperi e Piazza Foraggi. Io direi che è un bel progetto per la città, io direi che bisogna incentivare gli imprenditori che vogliono investire sulla città. Tenevo presente che urbanisticamente parlando è un progetto che va ad aiutare fortemente quella che è quella zona. Pensiamo che vada a Piazzale De Gasperi fino alla zona della galleria con due rotonde e piste ciclabili. Quindi io penso che bisogna incentivare gli imprenditori, magari facendo qualche modifica a favore degli imprenditori, affinché si investa a Trieste. Il centro-sinistra, pur felice di vedere rivisitato il sito ex fieristico cittadino, vuole vederci chiaro su alcuni aspetti e chiede sia messo nero su bianco il rifacimento di alcune aree verdi e la rivisitazione della viabilità. Il gruppo che ha acquistato l'area ex Fiera lo aveva acquistato con un'altra destinazione urbanistica che non prevedeva la realizzazione di un centro commerciale così come viene prospettato adesso. Poi il Comune ha ritenuto di rispondere alla richiesta del gruppo facendo la variante urbanistica qualche anno fa. Noi eravamo contrari. Ad ogni modo in quella variante si prevedeva che accanto al centro commerciale venisse e venga realizzata tutta una serie di opere di urbanizzazione che vanno dalle aree verdi ai giardini e alla viabilità e quindi noi chiediamo che venga messo nero su bianco che queste cose verranno fatte e vogliamo sapere anche con quale tempistica. A difendere l'operato della maggioranza il capogruppo di Forza Italia Alberto Polacco. L'Aula l'anno scorso ha approvato, nonostante le critiche dei 5 Stelle, una variante al piano regolatore che non è una variante a persona, è una variante che riconfigurava ovviamente l'area interessata dell'Expiera. Le domande sono due. Vogliamo lasciare tutto così come sembra ormai voler fare l'opposizione su qualsiasi progetto di innovazione della nostra città oppure vogliamo ripensare quelle che sono ormai degli edifici che vanno completamente riqualificati.